Per i trovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Calabria News 24. In apertura la cronaca sequestrati all'Andrangheta beni immobili per un valore di 2 milioni di euro tra la Calabria e il Piemonte. I finanzieri di La Mezzaterme, coordinati dalla DDA di Catanzaro, hanno dato esecuzione al sequestro in Calabria e Piemonte di beni immobili e mobili di aziende e disponibilità finanziaria riconducibili ad un esponente di spicco e ai suoi prestanome di una pericolosa cosca d'Andrangheta Lametina. Le indagini della Guardia di Finanza hanno consentito di mettere pienamente in luce la spiccata pericolosità sociale dell'indagato e la dedizione dello stesso al compimento di gravi reati, di cui i proventi egli e i suoi familiari hanno vissuto abitualmente in modo agiato per anni. Per cui è stata anche richiesta ed ottenuta l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di 5 anni. I mirati accertamenti patrimoniali e reddituali delle fiamme gialle condivisi dalla Procura della Repubblica in intestazione hanno infatti dimostrato che i beni nella disponibilità del soggetto sono di valore del tutto sproporzionato ed ingiustificato rispetto ai redditi deciti dichiarati e dal tenore di vita mantenuto dall'indagato. Ciò ha consentito di fornire alla magistratura un solido quadro indiziario per disporre il sequestro di cespiti patrimoniali rivelatisi di origine illecita o ingiustificata. La misura abbratoria eseguita dai finanzieri di La Mezza Terme è riguardato 5 appartamenti di pregio di cui uno ubicato in Piemonte e gli altri in Calabria, 3 fabbricati adibite dopo uffici industriali ed artigianali, 4 grossi appezzamenti di terreno edificabili ed agricoli con annessi fabbricati pertinenziali ubicati nel Lametino, 7 magazzini tra la Calabria e il Piemonte, 5 imprese abbiate fra cui 3 società di capitali operanti in pari e aree d'Italia, soprattutto fra l'altro nel settore degli alimentari, 4 polizie vita, cassette di sicurezza e disponibilità finanziarie presso vari istituti di credito per un valore complessivo stimato in circa 2 milioni di euro. Incendiato un noto lido in località Giovino a Catanzaro ci racconta i particolari Paolo Giura Un lido balneare lo Ionio di località Giovino è andato completamente distrutto e questo è il bilancio dell'incendio che è divampato mercoledì sera intorno alle 21 nell'attività commerciale del quartiere Lido di Catanzaro. Sul posto, oltre ai vici del fuoco del capoluogo e del distaccamento di Salia Marina, che hanno provveduto a spegnere il rogo, è dovuta intervenire anche un'ambulanza del 118. Nel locale, infatti, erano presenti alcuni clienti del ristorante e avventori, registrati alcuni casi di malori dovuti all'intossicazione dai fumi. Qualcuno, accortosi delle fiamme, avrebbe infatti tentato anche di spegnerle, introducendosi nei locali con degli estintori. Fortunatamente, però, non vi sono stati feriti. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri che hanno ascoltato alcuni dei presenti e molto probabilmente hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ignota, però, la causa dell'incendio, ma non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella dolosa. Cattiva gestione del comparto sanitario da parte del Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio. Questa è l'opinione del Consiglio Generale della UIL Cosentina. La situazione calabrese è al limite del collasso. È quanto ha affermato Roberto Castagna, segretario generale della UIL Cosentina, nel corso della riunione del Consiglio Generale accusando il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio di scarsa attenzione dei problemi che affliggono la nostra Regione. I dati Istat a proseguito Castagna ci collocano all'ultimo posto. La disoccupazione è più del doppio di quella nazionale e il precariato ha raggiunto soglie insormontabili. Più di 20.000 affritori di ammortizzatori sociali in deroga sono fuori da ogni protezione e le prospettive di lavoro per giovani e meno giovani sono diventate un sogno irrealizzabile. Per il Segretario Generale della UIL, gran parte del malessere è concentrato nel territorio con un bisogno di cambiamento diffuso che fa i conti con una reazione conservatrice sia da parte istituzionale che politica e blocca ogni istanza innovativa e le politiche su sanità, industria, artigianato, infrastrutture, trasporti, ambiente, settore forestale sono completamente fallimentari. In merito poi al risultato positivo degli LSU e delle più in buona parte concentrati nel Cosentino, afferma ancora Castagna che se non ci sarà un atteggiamento virtuoso da parte dei ministeri competenti sul versante dei decreti attuativi e da parte delle autorità regionali e locali sul piano delle stabilizzazioni da realizzare, il tutto rischia di verificarsi. Sul versante poi della legalità, la corruzione e l'arroganza di indrangheta, imprenditorie e settori della politica corrotta rischiano di bloccare ogni tentativo di uscire dalla morsa della disoccupazione e della povertà dilagante che a cosenza nel territorio provinciale ha raggiunto cifre da capogiro. Tutto questo, a concluso nella sua relazione, il segretario generale della Villa Roberto Castagna avviene sotto l'impassibile atteggiamento di un presidente della regione bocciato non solo dai calabresi ma anche dal governo nazionale sul versante della sanità. Una situazione insomma intollerabile che richiede uno sforzo di unità e una grande alleanza delle forze sociali in campo per rimuovere questo stato di cose ed evitare la morte civile ed economica del territorio. Cambiamo argomento. A Cosenza si è tenuta la tradizionale fiaccolata per ricordare Paolo Borsellino. In tutta Italia, in occasione del 19 luglio, sono diverse le manifestazioni per ricordare Paolo Borsellino. Quella di Cosenza è ormai un vero e proprio appuntamento fisso e anche quest'anno, in occasione del 25esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, si è svolta la fiaccolata commemorativa, il ricordo del magistrato ma anche di tutte le vittime di mafia organizzata dall'associazione Rievoluzione Calabria, diverse le adesioni da parte delle istituzioni. La cosa importante di oggi è la partecipazione spontanea delle persone libere e soprattutto per noi è un piacere vedere tante famiglie e tanti bambini che partecipano a questa fiaccolata. Allo stesso momento a Palermo, a Via D'Amelio, tante persone sono scese in piazza per ricordare la strage e la morte del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta. Lo facciamo in Calabria perché crediamo che in Calabria sia importante lanciare un messaggio di legalità e soprattutto vogliamo trasmettere ai giovani e soprattutto ai bambini un messaggio di libertà e di speranza e dire a loro che la via giusta è la via della legalità. Noi ricordiamo proprio per non dimenticare il lavoro che è stato fatto da queste persone che purtroppo ci credevano, ragione per cui ci hanno rimesso in prima persona. In questi giorni è apparso in televisione il messaggio pubblicitario del film di Borsellino quando Borsellino dopo la morte di Falcone dice il prossimo sarò io. Probabilmente se lo sentiva, probabilmente conoscendo bene l'ambiente all'interno del quale lavorava avrebbe tranquillamente potuto chiedere un trasferimento e mettersi da parte. Invece no, la forza, il coraggio, la dedizione verso il lavoro, l'impegno come istituzione purtroppo l'ha portato dove è arrivato. A Briatico è stato chiesto ai turisti quanto condizione incide la presenza dei migranti. Questa era la spiaggia di Briatico qualche anno fa e questa invece è la spiaggia in questi giorni. È vero, nel mese di agosto le cose migliorano un pochino ma le differenze sono evidenti. Così ci siamo avventurati tra gli sporadici bagnanti per chiedere loro come mai. È la prima volta che voi venite qua al... No, io ci sono nato. Io ci sono nato per loro, lei sì, la signora sì. Ma rispetto agli altri anni ci sono differenze? Beh, frequentatori no, anzi aspettavo vedere un po' più di gente. Di meno no? Però no, io di più, più di più. Però no, di solito scendo ad agosto, prima volta a luglio, ma va bene. Il fatto che ci siano anche tanti extracomunitari qua a Briatico può creare problemi? Chiaramente, però se li rendiamo anche utili alla causa potrebbero servire, perché vedevo che erano gli unici che tenevano pulito, tagliavano un po' l'erba, facevano qualcosa di utile che il Comune non farebbe mai. Io penso questo. Grazie. La signora cosa pensa? No, perché le vediamo lì questi, le persone le vedono, non vengono in spiaggia? No, queste non vengono in spiaggia. Questo io dico che magari è quello, non perché, per l'amor di Dio, cioè, benvenute anche loro, però diciamo, tenutele in quel modo, cioè, no. Questo può diventare un motivo per l'ombra. Interrente, sì, per alcuni sì, alcune volte sì, per me sì, per me personalmente può esserlo, perché ci può essere, come dire... Ci senti un imbarazzo? No, non è un imbarazzo. A disagio? Non lo so, mi sembra che perda un po' il panorama, ci vorrebbe più pulizia. Ma comunque non invadono lo spazio? No, no, non è questione di invadere, è questione che anche loro non sanno come comportarsi e quindi danno quello che possono, cioè, a volte per noi è un disturbo. Ma loro ci sono, bisognerebbe impiegarli meglio, cioè, collocarli meglio, creargli un ambiente più favorevole, dargli da lavorare, perché loro possono anche mangiare, altrimenti diventano anche un pericolo, credo. A te è capitato di girare per i villaggi di Briatico e hai notato che in alcuni casi c'è promiscuità tra turisti e ospiti, i migranti. Secondo te questo può creare problemi? Potrebbe crearli, perché è un conto se vengono trattati come ospiti. Alle volte non penso che i villaggi li tratti come ospiti, ma come pedine di denaro. E a volte sentirsi trattati così e quindi magari senza il cibo adeguato, senza la collocazione adeguata, potrebbe far scattare qualche protesta. Tu andresti in vacanza in un villaggio per metà occupato da migranti? Io no, personalmente, proprio per paura di proteste, ma non per altro. Non perché dà fastidio loro, anzi. C'è grande attesa a Rossano per il Calabria Blues Passion 2017. Grande attesa per il Calabria Blues Passion 2017. La carmesse più importante dedicata al blues in Calabria con quattro serate in tre diverse location. Tra il fondaco del Lido Sant'Angelo a Rossano, il parco archeologico di Sibari ed il lungomare Cento Fontane di Mirto Crozia. È una manifestazione a cui il nostro comune ha voluto puntare fortemente già lo scorso anno. Infatti, dopo il successo dello scorso anno, ci ripetiamo in questa stagione estiva, all'interno di una programmazione molto ricca e variegata, quindi il Calabria Blues Passion diventa uno degli eventi di punta del nostro programma estivo. Il fatto che sia un evento itinerante ci fa ancora più piacere, perché noi lavoriamo giornalmente per un discorso territoriale. E quindi questo evento è a pieno titolo inserito in questo contesto di un discorso territoriale. Una grande collaborazione con il Marco Fino e il Blue Passion, iniziata proprio dal primo anno. per vari motivi. Sicuramente la prima spinta è quella della grande amicizia che lega la famiglia di Maria Giulia Sorrentino a noi e a me personalmente e a Marco. Soprattutto anche perché quando abbiamo iniziato questa cosa, quando Maria Giulia ha iniziato questa cosa, noi ci siamo resi conto che in realtà si andava a raccontare non soltanto la storia di Marco, ma la storia di tutte quelle persone che in realtà anche dovendo trovare spazi fuori da questa nostra regione in realtà sono riusciti a diventare dei grandi talenti. I tifosi della Regina avranno il compito di scegliere la maglietta ufficiale della squadra. La maglia ufficiale della stagione 2017-2018 della Regina sarà scelta dai propri tifosi, sempre più al centro del progetto Amaranto. Questa, la nuova iniziativa della società presieduta da Mimmo Praticò, volta a coinvolgere i supporters Amaranto. Il senso di appartenenza, un legame che si è instaurato fra la Regina e la città di Reggio Calabria, che spinge il sodalizio reggino a coinvolgere sempre di più i propri tifosi ed il territorio. Le quattro proposte, confezionate da Leggea su indicazione della società, raffigurano San Giorgio, patrono e simbolo della città di Reggio. Sul retro, la maglia sarà impreziosita dalla scritta in oro Orgoglio Reggino, già presente nelle passate stagioni. La prima opzione prevede una maglia dalla doppia fantasia, abbinata con pantaloncino nero. La seconda prevede i pantaloncini bianchi che richiamano il colletto ed i bordi della maglia. Un classico, la terza maglia, tutta Amaranto con pantaloncini neri. Amaranto con chiazze più chiare e pantaloncini neri per la quarta opzione. I tifosi avranno 24 ore di tempo per decidere quale maglia preferiscono. Potranno votare sul sito ufficiale del club. E anche per questa edizione è tutto. Io vi aspetto alle 18 per ulteriori aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. A più tardi. Grazie per essere stati con noi.